La grammatica valenziale è un modello scientifico per descrivere la struttura delle frasi. È stato elaborato dal linguista francese Tenier negli anni 50 del 900 e sviluppata in Italia dal professor Sabatini. Questo nuovo webinar che vi proponiamo sulla grammatica valenziale nasce dall'unione dei due corsi precedenti e ha l'obiettivo di fornirvi un percorso di informazione di base che vi permetta di conoscere sia gli elementi teorici fondamentali del modello, sia gli aspetti metodologici più idonei per realizzare una didattica coinvolgente e partecipata da parte degli alunni, sia le modalità di progettazione più efficaci. Conosceremo i grafici radiali inventati del professor Sabatini per poter rappresentare e vedere proprio la struttura delle frasi. Infine, la bibliografia indicherà le valide fonti a cui attingere per lo studio e per costruire e realizzare il percorso di insegnamento-apprendimento.